I migliaia hanno partecipato questo fine settimana all'evento in località Fuscillo per il rilancio del comparto agricolo della Piana del Sele. A farla da padrone la multinazionale Walker-Newson con la presentazione di nuovi macchinari e dell'intera gamma di attrezzature. Benvengano iniziative del genere, ha dichiarato il sindaco di Capaccio, Palumbo, volte a fornire strumenti e tecnologie al servizio degli imprenditori. La multinazionale tedesca ha scelto Capaccio, ha aggiunto, perché siamo la porta d'ingresso del Cilento e della Piana del Sele. Erano presenti anche il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, il sindaco Massimo Cariello di Eboli e il sindaco di Orria, Mauro Inverso. È un evento che abbiamo desiderato e voluto perché crediamo moltissimo nel potenziale di questo territorio. Un territorio che ha delle potenzialità enormi di crescita e che sicuramente da oggi, nei prossimi anni, porterà degli sviluppi veramente molto importanti. Anche perché è una zona ricca sia per quanto riguarda l'industria, chiaramente il settore agricolo, il settore ovviamente del turismo, nonché il settore delle costruzioni. Pertanto sono tutti settori dove noi ci impegniamo a proporre prodotti affidabili, prodotti di altissima qualità e prodotti che portano naturalmente redditività a chi li usa e li impiega nei propri servizi.